Protestano i comuni dell'Ovadese e della Quese, esclusi dalla ripartizione da parte del governo dei fondi destinati alle aree interne. Proprio nel momento in cui la ricerca di soluzioni per lo sviluppo delle medesime era all'ordine del giorno, sull'argomento infatti ricordiamo i recenti convegni tenuti sia Silvano Doba con la presenza dell'esperto Giampiero Lupatelli, ben nove comuni si sono visti privare di quel sostegno che doveva finanziare le attività economiche, artigianali e commerciali. Si tratta di cifre che si aggirano sui 12.000 euro per il 2020 e circa 8.000 per il prossimo bienio. Ad essere tagliati fuori sono Belfort e Monferrato, Tagliolo, Casteletto d'Orba, Cremolino, Montaldo Bormida, Trisobbio, Ponzone, Cavatore e Cartoso, i cui sindaci non sono rimasti con le mani in mano chiedendo spiegazioni al ministro Giuseppe Provenzano. Nella questione si sono interessati i parlamentari Alessandrini Federico Fornaro e Riccardo Molinari, presentando un'interrogazione al ministro. Sarebbe paradossale che una misura creata appositamente per aiutare realtà periferiche fosse negata proprio alle zone che in questo momento ne hanno più bisogno per uscire da una crisi perdovante e per investire sul futuro del loro territorio, ha dichiarato il capogruppo della Lega alla Camera. Non esistono motivazioni plausibili, ha continuato l'esponente di Leo. Non si tratta di aprire una guerra tra comuni, ma di avere un metro di valutazione corretto sia per un senso di giustizia, ma soprattutto perché questi fondi devono servire per realizzare politiche di sviluppo integrate in territori omogenei. Evidente, ha concluso Fornaro, che queste classificazioni erronee producano delle distruzioni con gravi effetti per il territorio e per i cittadini, di aree già pesantemente in difficoltà.